Ne è passato di tempo dall'inizio del millennio. Il 2000 è l'anno del debutto assoluto di PlayStation 2. E quello in cui debutta The Sims. Quello di Medieval 2, Shenmue, Crash Bash, Driver 2 e Tomb Raider Chronicles. E il 2000 è anche l'anno dell'esordio assoluto di Spazio Games. Da allora sono passate quasi quattro generazioni di console. I videogiochi sono cresciuti, evoluti, diventati più maturi e capillari. E il nostro percorso fianco a fianco con loro prosegue con lo stesso entusiasmo di sempre. Oggi Spazio Games compie i suoi primi vent'anni. E li celebra continuando a raccontarvi tutti i giorni. Il videogioco prendendolo meravigliosamente sul serio. Grazie per averci seguito in questi venti anni. Allasciate le cinture per i prossimi eventi. Buon programma Spazio Games! Da videogiocatore per videogiocatore.